E qui? Chiedilo a loro. Non importa, posso immaginarlo. Stavamo solo parlando di cose nostre. Dille di chi parlavate. Perché non pensi ai fatti tuoi e ci lasci il pace? Basta discussioni in questa casa. Noi tre dobbiamo stare tranquilli per l'incontro con la casa discografica. Noi quattro, vengo anch'io. Noi cinque. Viene anche Manuel. No, no, non credo che sia una buona idea. È una questione di famiglia. Appunto, mamma. Manuel è della famiglia. Quindi viene. Che ne dici? Per me va bene. Mentre parlavo con lui.